10 JRPG che non sono mai stati rimasterizzati che assolutamente dovrebbero essere rimasterizzati. Sigla! Bentrovati al vostro Frankie di quartiere. Prima di cominciare vi introduco lo sponsor di questo video, Black Clover Mobile. JRPG free to play uscito da un paio di mesetti e disponibile per Android e iOS. Ne ho parlato recentemente in un mio video dove l'ho provato. Il gioco ripercorre tappa per tappa tutta la storia dell'anime di Black Clover, per cui è consigliato sia a chi è già fan, sia a chi non lo conosce e lo vuole conoscere, perché la storia verrà raccontata dall'inizio. Per essere un gioco mobile graficamente è davvero accattivante. Il punto forte di questo gioco è senz'altro il suo battle system a turni, nel quale potremo utilizzare fino a 4 personaggi contemporaneamente schierati a coppie, e infatti avranno anche la possibilità di utilizzare delle abilità combinate. Il battle system risulta molto strategico e utilizzare le skill nel giusto ordine sarà la chiave per sconfiggere i vostri nemici. È il gioco perfetto per quando non avete abbastanza tempo per accendere la console, ma comunque avete qualche mezz'ora di tempo da dedicare a qualcosa. Essendo free to play il gioco è gratuito, pertanto provarlo non vi costa nulla. E ragazzi, parlando un po' ultimamente di questi titoli nella super classifica di OUFU, dove 512 JRPG si sono sfidati per decretare un singolo re, ho riflettuto che molti di questi giochi purtroppo stanno svanendo nel ricordo collettivo, perché la memoria non viene tenuta viva da chi dovrebbe almeno almeno rimasterizzarli per PlayStation 4, PlayStation 5 e Switch. E quindi ho pensato di stilare una piccola classifica dove in realtà, ragazzi, non c'è un ordine preciso, sono più o meno tutti allo stesso livello. Una classifica di 10 titoli che assolutamente dovrebbero essere rimasterizzati e è anche per ricordarvi che, insomma, visto che probabilmente questi titoli non sono stati rimasterizzati e mai lo saranno, trovate il modo di giocarli. Cominciamo! Lunar Silver Star Story, ragazzi, io non mi stuferò mai di dirlo. Questo gioco è uscito per Mega CD, è uscito per Sega CD, è uscito per PlayStation 1, per Saturn e per PSP. Ogni volta era più o meno una versione diversa. La versione migliore in assoluto è questa, che ha delle cazzo inanime bellissime, delle canzoni vocali meravigliose, una grafica che per i tempi, insomma, era accettabile, ma soprattutto, ragazzi, in qualsiasi versione voi decidiate di giocare Lunar, sappiate che è un'avventura magica, intrisa di avventura, intrisa di anni 90, cavalieri magici, draghi, personaggi femminili provocanti e sexy, ma non volgari e senza fanservice. La storia di questo gioco, ragazzi, è epica, avvincente e anche abbastanza triste, in certi frangenti. Un antagonista, scritto magistralmente, che tra l'altro, se lo giocate blind, fino all'ultimo non lo capirete, e poi quando lo capirete direte Oh my! Ragazzi, meraviglioso. Persona 2 Eternal Punishment. In realtà, ragazzi, fecero uscire una versione PSP in inglese, ma del prequel, perché in realtà Persona 2 era diviso in due parti. Su PlayStation 1 fecero uscire solo la seconda parte in americano, in inglese, che è questa, Eternal Punishment, mentre Innocent Sin lo fecero uscire su PSP. Ecco, quello che dovrebbero fare, forse, e dico già nel senso, non mi sembra una logica così perversa, è far uscire una remastered del primo e del secondo titolo per Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5. O, al limite, un remake. Cioè, però ragazzi, facciamo qualcosa, perché questo è un giocone. Sia la prima parte che la seconda. Credetemi, ragazzi, è un giocone. È un giocone. Chiaramente è un po' diverso da Persona 3, 4 e 5. Non ci sono i social links, che in realtà è una cosa positiva. Però è sempre ambientato nel presente. Ci sono, ovviamente, le Persona, stile stand, Gioceschi, e aveva una trama veramente dark e piena di colpi di scena. Era anche abbastanza difficilotto. Insomma, ragazzi, questi due giochi andrebbero rilasciati insieme, in una collection, su degli hardware nuovi. È un peccato. Breath of Fire 3 e Breath of Fire 4, usciti su PlayStation 1 nel 1997 e nel 1999-2000. È un peccato. Questi sono due dei più grandi JRPG presenti su PS1. In realtà Breath of Fire 3 è sicuramente uno dei dieci migliori JRPG della storia. Ne ho parlato anche nella classifica dei migliori JRPG della storia. E sono giochi magici, che purtroppo sono stati dimenticati. Perché mentre Breath of Fire 4 non è mai stato portato, a parte che su PC, non è mai stato portato su altri sistemi, Breath of Fire 3 venne portato su PSP, ma poi è stato dimenticato anche lui. Questa cosa, ragazzi, mi fa piangere, mi fa piangere il cuore. Avete presente Luca P? Il mio più grande follower? Io l'ho conosciuto su Facebook perché era nel gruppo internazionale di Breath of Fire 3. Ho visto questo italiano che aveva l'avatar Facebook con Ryu di Breath of Fire 3 e mi sono detto questo è un fratello. Cioè, io gli devo scrivere e gli devo far vedere la mia retrospettiva di Breath of Fire 3. Peraltro, ragazzi, se non l'avete vista, guardatela. Questi due giochi, ragazzi, meritano assolutamente una remastered, ma visto che probabilmente non succederà, trovate il modo di giocarlo. Suikoden 3, 4 e 5 rappresentano l'apice più alto del JRPG su PlayStation 2. Mentre Suikoden 3, che sicuramente è il migliore tra questi tre, non è mai arrivato europeo, però, insomma, ragazzi, vi ho comprato una versione americana e poi ve lo emulate. Esiste anche una patch che va a migliorare le texture, tra l'altro. Gli altri due, invece, mi risulta che siano usciti anche europei. Suikoden 4, ragazzi, è un gioco che al tempo è stato bistrattato perché, 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 perché era un prequel prima, ambientato cento anni prima del primo gioco. Non c'era più Murayama, c'era solo Junko Kawano. Junko Kawano e Murayama erano, diciamo, gli sceneggiatori di Suikoden 1, 2 e 3. Anche se Junko Kawano aveva lavorato più al design dei personaggi che alla storia vera e propria, però qualche elemento l'aveva introdotto anche Junko Kawano. Comunque, c'era solamente Junko Kawano che aveva scritto la sceneggiatura. Per ovvi limiti di scenario hanno preferito fare un prequel, però aveva delle musiche molto belle. Il battle system, purtroppo, da sei personaggi scendeva a quattro, però, in realtà, già Suikoden 3, anche se c'erano sei personaggi era come se ce ne fossero stati tre. Diciamo che rispetto a Suikoden 3 comunque era migliorato il battle system. È naturale che poi con Suikoden 5 ritornarono al battle system classico dei primi due, quindi sei party members e Suikoden deve essere così. Suikoden lo vogliamo con sei personaggi utilizzabili. Comunque, ragazzi, sono tre gioconi che non sono più stati rimasterizzati. È un peccato. Questi giochi assolutamente dovrebbero venire rimasterizzati. Io mi auguro che se Suikoden 1 e 2 remastered vendono bene, inizieranno a fare anche le remastered degli altri. Poi, se proprio volessero fare un bel remake di Suikoden 3 coinvolgendo magari Murayama, per dire, e poi magari fare un Suikoden successivo, vabbè, non succederà mai. Non sogniamo, non sogniamo, non può succedere. Il nuovo Suikoden è Ayuden Chronicle, probabilmente candidato a essere uno dei migliori, anzi, il migliore JRPG del 2024. Candidato, ragazzi, eh? Non sto dicendo che lo sarà. Però, io ho delle vibes ultra positive. Insomma, ragazzi, comunque, questi Suikoden qua PlayStation 2 non sono mai più stati rimasterizzati ed è un peccato. Dovrebbero assolutamente essere portati per le nuove console. Shadow Hearts 2 e è anche l'uno, in realtà. Sono due giochi incredibili, ne ho parlato, ultimamente ne ho parlato tanto, ho fatto anche una retrospettiva, andate da guardare. Sono due JRPG horror dalle sfumature Lovecraftiane che però in realtà citano anche Devilman e sono ambientati in un setting molto vicino cronologicamente alla Prima Guerra Mondiale. Ragazzi, è qualcosa di... non ho il tempo di stare qui a dire, insomma, ho fatto una retrospettiva, guardatela, ma è un peccato che purtroppo Nautilus, la casa che deteneva i diritti, è fallita senza vendere i diritti a nessuno e quindi molto probabilmente questi giochi non saranno mai rimasterizzati. Però, insomma, vi comprate una copia originale e poi con gli emulatori oggi si può fare miracoli. La remastered ve la fate voi, anche in questo caso hanno fatto un pacchetto di texture migliorato. Ragazzi, questi giochi sono giochi incredibili, di tanto superiore ai GRPG che escono oggi e il problema più grosso era che voi non li conoscevate fino ad adesso. Adesso che sapete che esistono, dovete fare di tutto per giocarli. Datemi retta, ragazzi. La vostra scala di valore, di giudizio dei GRPG cambierà radicalmente dopo aver giocato questi titoli. non si è capito perché Bandai Namco non voglia rimasterizzare i tre Xeno saga. Ne ho parlato a lungo di questa saga. Ovviamente dopo che Takahashi e quasi tutto il team che lavorò su Xeno Gears e Chrono Cross lasciarono di botto Squaresoft stile colpo di stato, vennero acquistati da Namco che li mise a lavoro su questo progetto mastodontico. Dovevano essere sei JRPG a coprire un arco di tempo molto lungo che parlasse di questa storia incredibile. Fondamentalmente riciclarono il primo episodio della timeline di Xeno Gears per poi insomma creare una sorta di nuovo universo che però era molto legato a quello di Xeno Gears. Purtroppo però qualcosa andò male i giochi da sei divennero tre e al termine di questi giochi Monolith Soft venne venduta a Nintendo che poi li mise a lavoro su tanti altri progetti tra cui anche gli Xenoblade. Che dire ragazzi questi sono tre titoli che sono invecchiati un po' male soprattutto i primi due sono tosti da giocare sono molto lenti hanno un battle system così così soprattutto il secondo ha un battle system proprio lentissimo dove anche i soldati normali sembrano dei boss però con gli emulatori forse oggi si riesce un pochino a sopperire a questa problematica certo che se facessero una bella remaster fatta bene col turbo che però non va a rovinare la musica saremmo ancora tutti più contenti non si capisce perché Bandai Namco non lo faccia gli fanno schifo i soldi se questi giochi venissero rimasterizzati per Switch PlayStation 4 e 5 e magari anche Steam sarebbe un bel miracolo ma non credo che succederà Radiata Stories il miglior gioco che abbia mai fatto Tree Ace qualcuno di voi conoscerà Tree Ace per Eternal Sonata altri per i vari Starossian sappiate che però su PlayStation 2 Tree Ace fece Radiata Stories un gioco incredibile un mezzo suicode con un battle system pseudo action e il gioco era proprio bello aveva due protagonisti che potevi scegliere all'inizio vivevi la storia da due punti di vista potevi reclutare un sacco di personaggi stile Suicoden ovviamente li usavi nel party era una figata c'erano un sacco di boss segreti tra cui anche Lennet la Valkyria di Valkyrie Profile il primo Valkyrie Profile che dire ragazzi che dire colonna sonora top gameplay top ma soprattutto la grafica la grafica di questo gioco per i tempi ragazzi era qualcosa di incredibile una remaster di questo gioco gli farebbe vendere i soldi però è stato dimenticato e non credo che verrà rimasterizzato Skies of Arcadia questo venne portato su Gamecube ma insomma è passato è passato un po' di tempo da da quando c'era il Gamecube e non è più stato portato su nessun altro sistema è un peccato perché questo ragazzi come dico sempre è un JRPG incredibile che ne so avete apprezzato Final Fantasy 9? immaginatevi che questo gioco lo supera Final Fantasy 9 questo gioco era magico era magico e non è più stato riproposto questa cosa non si capisce cosa gli costa portare Skies of Arcadia su Switch PlayStation 4 e PlayStation 5 questo è un gioco che non deve essere dimenticato questo ragazzi era una killer application tanta gente ha comprato il Dreamcast per questo gioco hanno riproposto Shenmue 1 e 2 hanno riproposto Saga Frontier Chrono Cross ma come è possibile come è possibile che non si sveglino e non facciano anche una riproposizione di Skies of Arcadia tra l'altro se ne vociferava un annetto e mezzo fa un annetto fa un annetto e mezzo fa se ne vociferava che c'era una remastered in cantiere però poi tutto tace tutto tace tutto tace io ragazzi vi consiglio di trovare il modo di giocarlo questi qua non erano in nessun ordine particolare però in realtà quello che tengo per ultimo secondo me è il migliore di tutti e sapete già di cosa sto parlando sto parlando di Xeno Gears ne ho parlato fino allo sfinimento e non mi stancherò mai di parlarne perché ragazzi in Italia non ne parla nessuno tutti a dire si si bello bello Xeno Gears poi però se ne fottono di parlarne sarà che non è nei trend ma ragazzi a Frankie non gli interessa che una cosa sia nei trend per parlarne perché comunque io tutto quello che dico lo faccio uscire dal mio cuore e sono nuovamente a dirvi che questo gioco è qualcosa di fenomenale è il figlio di Final Fantasy 6 e Chrono Trigger tutto quello che avete amato di Final Fantasy 6 e di Chrono Trigger lo troverete qua dentro più un sacco di altre cose è un gioco da sfumature infinite riderete piangerete vi arrabbierete personaggi veri personaggi vivi personaggi che a distanza di 25 26 anni quel che è 27 io ogni giorno ci penso ogni giorno ci penso e mi domando perché perché questo gioco non venga rimasterizzato addirittura hanno fatto il remake 1 a 1 in 2DHD di Star Ocean 2 che era un gioco veramente mediocre non si capisce come mai non facciano la stessa operazione per Xeno Gears che sarebbe un gioco infinitamente più incredibile da rimasterizzare perché ormai ragazzi il problema è che la memoria la memoria intendo proprio il collettivo la memoria se tu non tieni vivo qualcosa nella memoria poi alla gente non gli interessa più di quella cosa fai a fantasy 7 è così acclamato perché square ha tenuto viva la memoria di quel gioco stessa cosa vale per Chrono Trigger ultimamente l'hanno fatto per Chrono Cross Star Ocean 2 eppure live alive cioè live alive ma chi se l'è mai inculato live alive eppure ragazzi per Xeno Gears che è il re incontrastato ancora oggi dei JRPG cioè proprio che non esiste nulla che si avvicini a questo gioco non lo fanno non si spiega non si spiega ragazzi comunque se amate Final Fantasy 7 amate Chrono Trigger amate Final Fantasy 6 amate Xenoblade assolutamente trovate il modo di recuperarlo che è stato tra l'altro anche tradotto in italiano dai Sadness che saluto se apprezzate il mio canale se apprezzate quello che faccio fatemelo sapere con un commento perché ragazzi non c'è altro modo di misurare se questi video che faccio vi piacciono se non con un like e un commento sappiate lo dico a tutti gli amici che guardano i miei video e non commentano mai non lasciano mai like che se io non ho modo non ho riscontro di vedere che questi video vengono apprezzati poi non li faccio più sono praticamente rimasto l'unico in Italia che fa video parlando delle vecchie glorie del passato che le stesse compagnie a cui hanno dato i Natali stanno cercando di fare di tutto per farli dimenticare e io ragazzi non voglio ma sapete perché mica è un problema mio io questi giochi non li dimenticherò mai io sto facendo tutto questo affinché voi voi ragazzi i nuovi appassionati che al tempo non c'eravate ma che oggi ci siete e avete diritto di sapere avete diritto di giocarli avete diritto quando parlate con qualcuno che Dragon Quest 11 o Persona 5 sono i migliori jrpg della storia avete diritto a sapere che un paio di anni fa erano usciti i giochi che stavano sopra a questi giochi che erano incredibili incredibili e ancora oggi sono incredibili ed è giusto ragazzi che voi li giochiate quindi se apprezzate quello che faccio fatemelo sapere con un commento se poi volete anche offrire un caffè al canale ragazzi troverete il link in descrizione e sappiate che ve ne sarò eternamente riconoscente ragazzi noi ci vediamo al prossimo video a bye ciao